Mi ricordo alla Maggiorea, questo bimbo, che spesa 2.600 gradi, mi viene stato abbandonato alla Maggiagati, e il professor Fattopoca ha lasciato un appello, e io, e io, direi alla Maggiorea, non è giusto, 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 No, non è giusto, 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 non ci metteremo in tanti ad altri mamma primo tra tutti questo ma di nuovo, carino e tanti altri amici che stiamo raggruppando tra le tante mamma di Elea sono tutti i passi domani, stasera, stasera, stasera e torna, all'ultima di mangiagalli prendici il bambino che è bellissimo e si merita di vedere la mamma vera mamma di Elea ma non è la mamma vera non stiamo giocando maggiore e stanno la mamma di Elea avevano le dettagli e mi sento e con il nuovo venere domani, stasera, stanotte torna, all'ospedale mangiagalli e di nuovo a partire via con questo bambino che è tra due figli di 600 anni che ieri è stato abbandonato a giocare a giocare a giocare un appello Noi io ci sono altri amici, ci daremo una mano, però forma perché avere un bambino è una grande fortuna. Per avere difficoltà economiche, capito, si possa creare dei complessi, dei sottoscritti, dei sottoscritti. Ci metteremo in tanti a dare una mano. Primo per tutti, ci sono fra di voi, per primo per tanti altri amici che stiamo raggruppando la realtà. Non una mamma che dovrà occuparsene, ma non è la mamma mia. Ci contiamo in questo caso, un bacione.